riusciamo no si finalmente finalmente ragazzi ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi uscita in kayak ultimi giorni per i bus che poi inizia la frega e chiude tutto quindi speriamo che siano in attività e adesso iniziamo let's go ok prontissimi adesso iniziamo prima esca ziggettino mattutino vediamo un po con questo col gighetto se ci permette di stanare qualche bus prima di infilarci dentro nelle cover negli alberi così vediamo così il primo bus mattutino lo cerchiamo così il primo bus vediamo un po la giornata mi sa che è bella calda oggi speriamo che ci siano in giro è anche più alto del solito e giustamente con le piogge che sono venute si è alzato un bel po quindi vediamo vediamo cosa riusciamo a fare c'è no no abbiamo sbagliato l'abbiamo sbagliato ragazzi primo bus è andato non ci credo non ci credo già il primo bus è andato non ci credo ragazzi due due il suo cambiato completamente al giga anche perché me l'ha portato via forma e colorazione anche tipo di gambero attaccato un po più corto un po più compatto che magari mi permetta di fare mi permetta di fare una cattura ma ancora vediamo cosa sono perché magari sono siluri un altro abbiamo sentito ma sembra di averlo sbagliato va bene tutto ma sbagliarne tre è grave siamo afficcati un po alla fine siamo finiti contro la pianta vediamo quel gig qua non va bene non va per niente bene mi fa impigliare troppe volte dentro negli alberi ho dovuto cambiare il gig perché ci fa impigliare un po troppe volte c'è il primo lancio in mezzo agli alberi subito si è impigliato probabilmente c'ha poche spazzolina davanti e ci ha fatto impigliare subito allora catemo no prendiamo no ragazzi no ve lo diciamo lo pigliamo no questo bus un altro allora tre ne abbiamo sentiti ragazzi in quello spazzettino qua ovviamente questa è roba piccolina mi ha messo su creaturina con una piccola testa piombata vediamo con questa se magari quelli che abbiamo sentito prima in quell'angolo qui vengono fuori ad aggredirmi la creatura adesso vediamo se è piombata abbastanza o magari troppo proviamo un po' a vedere oh no no ragazzi sì 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 nooo non ci credo ragazzi ne abbiamo sbagliati quattro speriamo almeno di riuscire a perderne uno possibile non è uscito l'amo non è uscito l'amo dalla dall'esca non è uscito l'amo dall'esca perché? boh tanto lui lo sa perché non è uscito sicuramente dopo quando andrà incagliarsi dentro magari in un albero o qualcosa lì sì che uscirà subito si finalmente finalmente ragazzi finalmente l'abbiamo preso come on come on si dentro nel guadino finalmente come on come on finalmente primo pass con una lunga ma lunga agonia sono riusciti a prendere il primo pass eccolo finalmente una lunga agonia dopo averne sbagliato un bel po' sono riusciti a prendere questo bel pass non tanto grosso però dai almeno il primo della giornata e adesso come sempre ciao bello come sei? ciao come on come on finalmente finalmente troppo una lunghissima agonia di averne sbagliato in una marea se riuscite a prendere il primo siamo ritornati nello stesso posto dove l'abbiamo preso e vediamo se ne salta fuori un altro con questa bella creatura qui vediamo vediamo se ne sono altri in quel punto qui ovviamente l'abbiamo preso ma ci sono spaventati visto che comunque ne abbiamo sbagliati mi sembra 4 qua più o meno quindi non è detto che siano ancora qui gli altri allora sto dicendo riproviamoci la mangiata che abbiamo sentito era bella quindi era un bel pass secondo me bello grosso peccato che comunque andando a lavorare in mezzo agli alberi comunque si fa completamente fatica a tirarli fuori ovviamente appena sbagliato eh cioè se è chiaro c'è c'è ragazzi c'è 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 tiriamolo tiriamolo oppla secondo bello questo questo qua molto più bello rispetto al primo finalmente ragazzi eccolo qua secondo bus bello anche questo un po' più grosso del primo però dai abbiamo scappottato due volte adesso lasciamolo andare subito via ciao bello come on e via col secondo vediamo se c'è subito il terzo forse no così così vediamo subito se c'è eccolo il terzo eh c'era c'era il terzo c'era il terzo abbiamo sentito appena appena senza non riesco a capire dove sta andando l'eschettina non riesco a capire dove arriva tutta quelle quelle onde qua eh vediamo ragazzi siamo tornati dove eravamo dove eravamo presi però purtroppo c'è lì altra gente a pescare a fondo e non possiamo avvicinarsi quindi proviamo qui così siamo un po' più spostati vediamo un po' se ci sono anche qua purtroppo l'altra sponda non ci ha dato nessun attacco a parte quello là quel mezzo attacco là però boh chissà cos'era secondo me era un luccio però mio papà a quanto pare ha agganciato anche un perca magari poteva essere anche lui poteva essere anche un perca magari in giro c'è c'è ragazzi preso dobbiamo tirarlo fuori nooo si è slamato si è slamato però abbiamo visto che è tornato lì vediamo è tornato lì ancora e magari non l'abbiamo bucato bene vediamo un po' c'è stavolta preso stavolta preso si dentro nel guadino nel guadino nel guadino come on si si eccolo si un altro top come on come on ragazzi finalmente altro bel bus abbiamo preso un altro bellissimo anche questo e adesso andiamo subito a rilasciarlo e via eccolo qui bellissimo ciao bello come on come on micidiale quell'esca qua è micidiale ragazzi come abbiamo lanciato là in fondo probabilmente era infilato sotto sotto la riva come abbiamo lanciato abbiamo fatto appoggiare a terra due colpettini e abbiamo visto uscire a mangiare la prima volta abbiamo sbagliato la seconda abbiamo visto che è andato ad aggredirlo ancora una volta e subito è uscito top dai alla fine è andata benissimo è stata l'ultima cattura che abbiamo fatto non ce ne sono state più niente altre però dai tre siamo riusciti a prenderne abbiamo sbagliato un po' troppi però va bene così dai abbiamo scappottato io spero che questo video in qualche modo vi sia piaciuto e come sempre ti ricordo di lasciare un bel like iscriverti al canale e accendere la campanellina e noi ci vediamo in un prossimo video in un prossimo video